Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 per traffico intenso, in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incise Reggello e rallentamenti tra Barberino e Calenzano. E in direzione Bologna rallentamenti per un veicolo in avaria tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico. Sulla A12 in direzione Livorno, code tra il Vivio per la A11 e Pisa Centro. Sulla statale 67 Toscolo Magnola chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!